Tante altre sensazioni positive, al di là del risultato che d'estate conta un po' meno, conforta questo spirito, questo gruppo che si sta formando, siamo soltanto alla seconda settimana di lavoro. Sì, stiamo lavorando, stiamo crescendo, abbiamo identità, questa è la cosa che più mi preme e più preme ogni allenatore, in modo tale da proseguire su quel lavoro che è quotidiano nella fase di preparazione e di conseguenza questo ordine contro formazioni di livello superiore alle nostre, Frosinone e Benevento, decisamente mi conforta perché vuol dire che l'indirizzo che stiamo dando è un indirizzo assolutamente positivo. Risposte positive da questi giovani, sui quali peraltro avevate scommesso conoscendoli già a priori e poi ci conforta vedere anche Burzigotti, De Vito, già abbastanza integrati in un gruppo che è nuovo. Dipende sempre dalla voglia e dall'organizzazione, dalla percezione e della serietà del lavoro. Se un calciatore percepisce che questo c'è, fa fatica a non fare bene il proprio lavoro. Da parte nostra stiamo mettendo tutto quello che è il nostro know-how per dare ai ragazzi dei concetti di calcio nuovo, dei concetti organizzati, dei concetti di calcio di qualità, cosa che magari è venuta un po' meno fino a quest'anno e su quello batteremo forte perché sono convinto che con l'organizzazione ma con la qualità le cose possono andare bene. Società che sta compiendo anche degli sforzi per accontentarvi. Il nome di Pozzebon ha galvanizzato un po' la piazza. Adesso arriva anche Musaccio, un giocatore che ha 150 presenze in carriera in B. Può essere un altro valore aggiunto. Assolutamente sì. Sono calciatori che abbiamo scelto perché vogliamo fare un certo tipo di calcio e come dicevo prima per fare un certo tipo di calcio dobbiamo avere la qualità che ti permetta di esprimere questo tipo di gioco. La società sta facendo bene il suo lavoro. Le indicazioni che gli do io assieme al mio direttore sportivo sono ben precise. Per cui in questo momento le cose stanno andando e vedremo un po' di qua alla fine del mercato quale altre indicazioni possiamo trarre dalla situazione tattica. La Coppa è già alle porte. Come preparerete questa prima sfida ufficiale? Una sorta di mini ritiro per cercare di arrivare concentrati, pronti all'appuntamento? Sì, un mini ritiro ma diamo continuità perché comunque la partita è fra pochi giorni per cui continueremo sul trend di questi giorni. Ci ritroveremo martedì e poi con mercoledì ci avvieremo verso la fase finale proprio di questa prima parte per poi approcciarci alla prima gara ufficiale. Grazie a tutti.